Tanti amici e parenti sono accorsi alla Masteria Antuono di Giuliano per festeggiare Anna Riccio, classe 1914 per il suo compleanno. Madre di 5 figli e nonna di tanti nipoti, nonna Anna ha tagliato l'ambito traguardo dei 100 anni tra l'affetto dei suoi cari. Giulianese Doc ha lavorato per gran parte della sua vita, bracciante agricola, nei suoi occhi anziani ma vivi la storia della nostra città e delle sue tradizioni. Emozione anche per i gestori del locale, per il festeggiamento di un evento decisamente speciale, a far visita a nonna Anna anche il medico di fiducia Pietro Di Girolamo che ha assistito al taglio della torta. Al dispetto di quanto si possa pensare e alle cronache degli ultimi tempi anche a Giuliano si vive in salute fino a 100 anni.